E allora Di Fabio una vittoria molto molto importante contro un avversario davvero ostico che vi ha messo in difficoltà soprattutto nei primi 20 minuti di partita. Sì sì, ci ha messo in difficoltà sempre, è una squadra che sapevamo che giocava bene come lo ha fatto domenica scorsa il Fiuggi, ma io dico da un po' di tempo che il giornale di ritorno sarà un altro campionato perché le squadre si sono attrezzate, le squadre hanno trovato la loro quadratura, tutte lottano per un obiettivo, quindi c'è da combatterle e noi siamo stati bravi a soffrire nei primi 20 minuti, anche mezz'ora, poi dopo abbiamo ripreso le redini della gara e abbiamo trovato il gol nel fine del primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo avuto tantissime situazioni, occasioni per chiudere la partita, non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto dopo, alla fine abbiamo ripreso un gol evitabilissimo che ci ha fatto soffrire fino alla fine, però sono tutte cose che accadono e che dobbiamo migliorare perché non sempre, poi magari capita in qualche occasione che la paghi come c'è successo. Tra l'altro mister avete cambiato anche diverse pedine in questa partita, diversi i cambi, poi volevo chiedere il gol di Loviso a ridosso dell'intervallo, quella è una rete che ha potuto anche dare una svolta, perché poi nel secondo tempo siete scesi in campo con tutt'altro piglio rispetto a come avevate approcciato il primo tempo. Sì, è vero perché ci ha dato sicuramente, ci ha ridato quel pizzico di morale in più che serviva per affrontare poi il secondo tempo in una certa maniera, poi secondo tempo sì, si è visto un altro Castelnuovo perché abbiamo deciso poi dentro lo spogliatoio di rientrare, mentre inizialmente lo aspettavamo siamo rientrati con l'intento di andarli a prendere altri, di impedirgli di giocare e questo ha portato i suoi frutti perché l'Aprilia non ha più giocato come aveva fatto nei primi 20 minuti del primo tempo e noi siamo ripartiti con più intensità, con più cattiveria e alla fine secondo me questa è stata la differenza. Galluzzo complimenti perché avete dato davvero del filo da torcere al Castelnuovo, soprattutto nei primi 20 minuti ma in buona sostanza in tutta la partita siete rimasti a galla, anche poi il 3-2 nel finale, insomma una bellissima partita, però peccato, zero punti. Sì, sì, penso che sia stata una buonissima gara da parte nostra, però è la terza volta che riceviamo i complimenti e prendiamo pochi punti perché ti ripeto in queste ultime tre partite abbiamo fatto delle ottime prestazioni, abbiamo raccolto un punto solo, quindi sai, giocando ogni tre giorni le vittorie ti fanno recuperare prima e ti danno entusiasmo, però spesso mi ritrovo a dire le stesse cose, però penso che non ci sono alternative, sono quella di continuare a credere in quello che facciamo, se non quella di continuare a rincorrere a rincorrere una vittoria che sarebbe meritata e che comunque servirebbe per proseguire un cammino un po' più tranquillo perché comunque questo è un girone molto molto difficile. Io penso che il pubblico abbia assistito a una bella gara, sicuramente, per una Serie D, però è chiaro che c'è un po' di amarezza perché comunque quando fai una bella gara contro una squadra di vertici come questa e raccogli poco, l'amarezza c'è. E commissere, appunto, quanto può aver influito però il turno infrasettimanale che avete giocato? Insomma, vabbè, si gioca ogni tre giorni praticamente. Sì, sì, ma sicuramente può aver influito, ma questo non deve essere un alibi, perché poi dopo anche altri giocano ogni tre giorni. Io penso che se uno vuole fare una cosa e ci crede fortemente, penso che alla lunga riesca ad ottenere quello che desidera. Noi, ti ripeto, sicuramente incide, però questo non deve essere un alibi e adesso dobbiamo recuperare lunedì e martedì, prepariamo la partita di Reganati e dobbiamo cercare di andare a fare punti. Stefano De Giglio, oggi una doppia soddisfazione, intanto la vittoria, poi anche una doppietta personale che non guasta mai. Sì, ben venga, sono felicissimo, mi mancava il gol, era tanto che non segnavo, ma soprattutto il risultato positivo per noi, sono felicissimo di aver aiutato la squadra e sono felicissimo per la reazione dopo lo svantaggio iniziale. Insomma, contro un'Aprilia però che vi ha dato davvero del filo da torcere, soprattutto nel primo tempo, quindi una vittoria dall'alto tasso, anche di difficoltà. Certo, era una squadra in buona salute, visto gli ultimi risultati, sapevamo che era una buona squadra, giocava a calcio, però noi l'abbiamo approcciato un po' male, però poi siamo stati breve a reagire, a crederci sempre e alla fine poi nel secondo tempo siamo riusciti ad andare avanti. L'abbiamo chiuso con qualche brivido, dobbiamo evitare di prendere questi gol e continuare su questa strada.